lavoro nel mondo del digitale oramai da più di 25 anni ma nell'ultimo periodo ho iniziato a guardarlo da un'altra prospettiva la prospettiva dell'inclusione l'inclusione nel mondo lavorativo delle persone con disabilità sì perché da questo punto di vista il digitale può avere un duplice impatto da una parte crea nuove attività nuovi lavori nuove professioni che possono essere svuote anche da queste persone dall'altra parte mette loro a disposizione degli strumenti tecnologici anche solo lo smartphone con la giusta app che possono agevolare lo svolgimento di questa attività allora in questo brevissimo video abbiamo voluto raccogliere tre testimonianze tre storie di elisa luca e massimiliano che testimoniano quanto appena detto per quale motivo l'abbiamo fatto non tanto retorica o storytelling ma per una concreta call to action perché tutti noi manager imprenditori che abbiamo la fortuna di lavorare in questo meraviglioso mondo possiamo fare concretamente qualcosa nel nostro piccolo siamo fatti dagli studi che una persona con disabilità inserita nel modo giusto crea davvero un valore aggiunto e un aumento del profitto dell'azienda più che valore io parlerei di esperienza che ho portato i miei colleghi infatti io essendo sordo per comunicare con me le persone devono comunque trovare un modo diverso apprezzarsi in maniera diversa e questo ha portato una grande esperienza ai miei colleghi che a loro volta potranno usare ad altre persone che non mi stesse pubblicando l'inclusione per me vuol dire far parte di qualche cosa a livello sociale a me viene da dire che è questo quello che per me ha significato per me il significato dell'inclusione è proprio essere citati proprio a che si è noi abbiamo tutte le stesse possibilità e abbiamo tutte le stesse potenzialità grazie a tutti